Buonasera a tutti, eccoci nuovo qui in diretta dal primo Crazy Hi-Fi Cartooning Day. Io sono qui con Federico Borghi, della live di Vittorio Veneto. Ciao Federico, buonasera. Allora, noi questa qua sarà l'ultima intervista prima della chiusura con la ROS e abbiamo deciso di lasciare per ultimo, niente, proprio di meno che un'attività. Ma per quale motivo? Perché, diciamo, questa sarà uno dei prossimi partner della YourTooning e quindi ci accompagnerà in quelli che sono i nostri tour. Allora, raccontaci un po', la tua attività, che cosa è? Innanzitutto facciamo conoscere gli amici a casa che ancora già non la conoscono e che cosa proprio producete? Sì, allora, Live nasce circa quattro anni fa, da un'esperienza, diciamo, trentennale nel settore degli speaker, saltoparlanti, e nasce per passione dopo tante esperienze con aziende, costruttori, distributori, eccetera, e questa passione mette insieme, diciamo, le esperienze sul campo. Quindi Live Extreme, Extreme sta perché noi vogliamo testare in maniera estrema i nostri prodotti, in modo da dare una sicurezza verso il nostro cliente di acquistare un prodotto al di sopra delle righe, al di sopra della media, in un mercato che è abbastanza, diciamo, appiattito dalle produzioni cinesi, orientali, eccetera, dove il prodotto è bellissimo, ma il contenuto è abbastanza mediocre. Ok, quindi diciamo che vi siete occupati di dare soprattutto qualità. Qualità e prestazioni al giusto prezzo. Ok, perciò diciamo un mix vincente, insomma, per quale motivo non dover acquistare uno dei vostri pezzi? Ma, diciamo, voi avete un catalogo prodotti che parte da che cosa, fondamentalmente? Live si occupa di altoparlanti, di illuminazione a LED e di Xenon, illuminazione Xenon per auto. Ok, va bene. Diciamo quindi vi occupate un po' di tutte queste cose. Per i nostri amici a casa dove possiamo trovarvi? Allora, basta entrare nel sito livextreme, con una E, livextreme, non livextreme. Sì, .com, .it? .it, con una E solo volevo dire, livextreme. Ok, oppure puoi scrivervi all'indirizzo e-mail? Federico Borghi, chiocciolatele2.it, due numeretto, adesso diventerà Tele2, perché c'è il cambio gestionale. Ok, va bene. Ed eventualmente vuoi per caso lasciare anche un numero di telefono? Sì, nessun problema, potete chiamarmi al 348 26 90 333. Ok, anche semplicemente per farvi inviare il catalogo o magari per ricevere qualche maggiore informazione su questi prodotti che... Sottolineare che nel sito ci sono tutte le schede tecniche dei nostri prodotti, il nostro messaggio, il messaggio di prodotto tecnico, quindi investiamo tutto sul prodotto, non sulle scatole, sui cataloghi, eccetera, che ovviamente è giusto farli, però in questa fase iniziale cerchiamo di concentrarci lì, ecco, sulla sostanza. Certo, certo. Ma voi adesso siete sviluppati soprattutto in qualche regione? Soprattutto nel Trivenito, però adesso ci stiamo allargando al nord Italia e poi il centro e così via. Ok, perciò diciamo lanciamo anche una ricerca, insomma, se avete per caso voglia anche di distribuire, vero, i tuoi prodotti, stiamo accettando, si reclutano bravi distributori. Già, arrivano richieste dall'Italia, ecco per cui sto cercando di allargare la rete vendita. Ok, perfetto, guarda, io adesso ti ringrazio se vuoi dire ancora qualcosina. Ma ti ringrazio Linda dell'opportunità e un saluto a tutti i nostri clienti contenti e ai futuri clienti. Ok, dai, perfetto ragazzi, a tra un po' facciamo la chiusura. A più tardi, ciao ragazzi. Ciao a tutti.